Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come va? Spero che state bene e che stai trascorrendo una splendida giornata come ha riportato il mio amico giornalista e consumente di mercato Andrea Di Lella se non lo conoscete vi invito ad andare a vedere una live che fece con lui sul canale qualche mese fa appunto Andrea ha riportato questa notizia che l'Udinese sembra che sia sulle tracce di Enzo Copetti un centroavanti argentino, classe 1996 del Racing devo dire che un po' mi ha stupito, però comunque andremo a valutare e a parlare appunto di questo giocatore in questo video prima però di andare a nostra questione, mi raccomando come sempre lasciate un rec al video e iscrivetevi al canale e attivate campanile delle notifiche per noi sempre aggiornati in tempo reale con i contenuti che vado a pubblicare qui sotto in info box trovate il link al mio gruppo Telegram dove si parla di calcio a 360 gradi senza colore né di maglia né di bandiera ma veniamo a noi, una notizia un po' sorprendente perché è un nome un po' d'outsider che da un certo punto di vista mi stuzzicano onestamente le idee e mi stuzzica anche la fantasia perché comunque è una tipologia attaccante che si può rifare anche abbastanza agli anni 90 però insomma andiamo a vedere un pochino chi è questo Enzo Copetti appunto classice 1996 del racing guidato da un tecnico molto emergente come Fernando Gago che è nato calcisticamente nell'atletico della Fela poi dal febbraio 2021 veste la maglia del racing appunto inizialmente in prestito e poi a titolo definitivo durante la stagione corrente, quindi durante il 2022 comunque 26 partite, 12 gol e 3 assist, assolutamente niente male per un giocatore che fa come sua caratteristica principale la forza fisica nonostante i 180 cm è forte, è piazzato, ha una buona velocità una dischetta tecnica che lo rendono molto pericoloso in area di rigore infatti i suoi movimenti principali contando che lui è una punta diciamo al 100% poi a volte viene schierato sulla destra però appunto, nel senso come tequartista destra è appunto un centroavanti che fa della forza fisica del sapere affrontare uno contro uno unito insomma una bella muscolarità lo rende anche molto veloce e quindi succede che anche nell'uno contro uno unito il tutto alla forza fisica è veramente difficile da affrontarlo se sei un difensore come vi ho detto poc'anzi uno che ha giocato può giocare anche a destra in un 4-2-3-1 anche in questo modo comunque ha fatto sempre anche il ha fatto spesso anche la punta è un giocatore che può fungere un po' da fulcro sulla destra un po' come faceva Mario Mandzukic la fisicità è completamente diversa però come stile di gioco è uno che sa proteggere palla e che sa andare al contrasto quindi un attaccante veramente forte, tignoso un giocatore che da attaccante può giocare sia come unica punta che come attaccante ma con un altro attaccante come partner quindi in un 4-4-2 nelle ultime partite Gago l'ha anche utilizzato in questo caso c'è Carbonero in tandem un attaccante un po' piccolino un po' più sgusciante e quindi lui può agire un po' più da uomo d'area è un giocatore che comunque di indole l'area di rigore la sente sente la porta nonostante 180 cm è bravo di testa è uno che nella sua presenza grazie anche ai suoi movimenti in area di rigore la fa sentire ora bisogna vedere in primis la valutazione del Racing perché comunque sempre Andrea riporta che il Racing non vorrebbe meno di 7 milioni di euro per un giocatore che ha il contatto di scadenza il dicembre 2024 nel mercato di ora è un prezzo molto abbordabile e anche perché attaccanti comunque di alto livello con 7 milioni di euro non si prendono io penso che Copetti sarebbe comunque una sorta di semi scommessa perché un giocatore che è già discretamente esperto che è del gennaio 96 quindi tra 6 mesi mi va a compiere 27 anni un giocatore che fondamentalmente è scoppiato tardi perché comunque lui dell'Atletico di Raffaela è approdato nel febbraio 2021 al Racing quindi aveva già 25 anni appena compiuti e secondo me Gago ha cercato questo tipo di attaccante perché quando tu prendi un attaccante non dal pedigree clamoroso quindi che segna stagione 25 gol devi far funzionare il cervello e quindi magari Gago ha trovato in Copetti Gago con lo staff di mercato del Racing ha trovato in Copetti un giocatore che dice ok per me questo qui è funzionale lo porto con me e lo utilizzo e comunque le cifre non gli stanno dando torto perché comunque in poco più di 50 partite si è andato 22 gol non è pochissimo per un giocatore che alla carta è esploso tardi ora bisogna vedere poi nell'Udinese di Sottil come si andrebbe a a collocare perché appunto vi era questo dubbio ma riproporrà il 4-2 ma attuerà il 3-5-2 o comunque tornerà a difesa 3 beh io in questo caso e vedendo anche il rosa di Udinese penso che in media stat virtus quindi unirà la difesa 3 alle due punte e il trequartista calcoli alla mano il 3-4-1-2 anche perché in questo caso avresti Beto Copetti che puoi giocare sia al posto di Beto ma con caratteristiche diverse ma secondo me anche con Beto avresti Delofeu ad ora ovviamente che ti va fare la seconda punta e avresti success non parlo di Vizeo e questi qui avresti 4 attaccanti puri puri vabbè Delofeu mettiamolo come attaccante sull'altro i quarti hai tanti giocatori da valorizzare hai Samarzic hai il Neacuisto Lovric hai anche un Pereira che lì ha giocato tempo addietro bisogna vedere poi se magari Pereira è corteggiato anche da River Plate bisogna vedere se accetterà se andrà via ma conti alla mano hai gli esterni come soppì quindi secondo me un 3-4-1-2 potrebbe essere una bella soluzione perché andresti a mettere in soprattutto in fase attacco andresti a utilizzare tanti uomini che sono funzionali un progetto tattico perché un attacco facciamo un esempio con Samarzic barra Lovric e appunto in avanti dovresti una coppia Beto Copetti ragazzi forza fisica e velocità a go go coppia in particolare coppia particolare devo dire che ricalca in parte il lungagnone il pivò e l'attaccante un po' più bassino tipico degli anni 90 e inizio anni 2000 estremo a vedere potrebbe essere un acquisto interessante ovviamente tifosi udinese non fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale attivate la campanellina e passatevi a trovare sul gruppo telegram vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi